Favorevoli o contrario alla realizzazione della Formula E sul lungomare di Ostia? Assolutamente favorevole, come inizio di una nuova stagione turistica su Ostia. Come si può essere, contrari a un avvenimento del genere, solo i pazzi lo possono essere. Ricordo che nel 1939 già è avveniva fatto, quindi potrebbe essere anche l'inizio di un risollevamento di Ostia a livello turista. Sono molto d'accordo con questa ipotesi di trasferire la Formula E a Ostia, perché Ostia ha bisogno di eventi che abbiano una caratura nazionale e possibilmente internazionale e uscire un po' dal provincialismo che l'ha caratterizzato in questi ultimi anni di eventi sottodimensionati. ha delle grandi risorse e può veramente dare il meglio, come è accaduto anche con l'evento importante dell'early davison al porto di Ostia. Ostia non vede l'ora di ospitare iniziative come quella della Formula E. Sarebbero i benvenuti e sarebbe un'ottima occasione per il territorio per rilanciarsi. Vi aspettiamo. Sono favorevolissime alla Formula E ad Ostia, perché a Ostia si donano gli spazi giusti e ad Ostia potrebbe dare veramente quel valore aggiunto che probabilmente in una città come Roma si anacqua in un mare magnum. Assolutamente a Ostia la Formula E per gli spazi e per il respiro che darebbe la visibilità alla cittadina. Evidentemente è una scelta quasi obbligata. Non possiamo che essere d'accordo. Il mondo automobilistico tradizionale, quindi non in Formula E, già sta nelle migliori città balneari. Noi qui siamo assolutamente convinti e contenti. Non potremmo che appoggiare, non potremmo che essere disponibili. Ragioniamo come e quando potremmo addirittura considerare i nostri stabilimenti in un'area unica del divertimento all'atere. Assolutamente favorevoli, perché la Formula E è un evento di caratura internazionale che darebbe un risalto incredibile al territorio, alle potenzialità che Ostia ha, ma soprattutto porterebbe ancora di più il focus su quello che è una dimensione nuova per Ostia, una dimensione che va verso un'offerta del territorio volta all'ecologia, volta allo sfruttamento sostenibile dell'ambiente che Ostia, per sua costituzione come territorio, può offrire. La possibilità di questo evento è eccezionale per un territorio che va ricostruito. È un territorio stupendo, un territorio che ha mille possibilità di crescita. E la Formula E sarebbe il massimo, uno dei tanti tasselli che potremmo iniziare a ricostruire questo bellissimo posto inviato da tutto il mondo. Fare eventi come principio in un'area come questa è senz'altro sempre un elemento assolutamente positivo. Perciò ho fatto i dovuti controlli e ho fatto un lavoro di autoconsapevolezza, ovviamente da parte delle categorie di quanto possa essere impattante e importante un evento del genere, può essere un evento senz'altro positivo che porterebbe non solo persone, ma porterebbe anche forse una nuova percezione all'esterno del nostro municipio di quella che è realmente questa parte della città e del fatto che si possano organizzare eventi del genere e si possa fare impresa sempre in maniera estremamente pulita e sana.